Tu devi correre da Bershka, io ti avverto prima che sia troppo tardi Tu la vedi questa tutina, è uno di quei capi che 10 minuti e sparirà sold out Ok, cioè secondo me non c'è bisogno di aggiungere molto altro a parte chiudere sta cerniera Ciappette, le fa molto belle Calcuna di chi qui fascia tutto, quindi c'è evidenza proprio il punto vita Ragazzi, mi piace troppo Se smette di piovere, di fare freddo, di fare il suo tempo terribile, posso metterla per uscire Comunque so che lei sarà la mia compagna d'estate, già lo so Che ne pensate? Ciao Forse questa volta mi rendo conto di aver esagerato, però fondamentalmente ho preso tutte cose per primavera e estate Quindi cioè ci sta, dopo un anno cambio stagione, cambio look, un po' di novità, cioè ci sta Allora cominciamo da questa busta, li ho ordinati, li ho desiderati fortemente taglia sbagliata Parlo di questi jeans leopardati di Bershka che adesso vado immediatamente a fare il reso Perché è una 36, però mi sta 4 volte Bellissimi, c'è l'outfit in mente ma vabbè, sfiga voluto Bershka, qui ho preso semplicemente questo body rosso Eccolo qui, già outfit in mente Ah, tra parentesi tutte queste cose le ho prese perché domani farò solamente un video con tutte idee outfit primaverili Quindi vi aspetto qui assolutamente perché lo metterò lì Zara, rigorosamente riparto bambina Perché già sono in vacanza Io già sto nelle vacanze estive E poi Ho preso questo vestitino In realtà lo volevo in verde Che è super virale Però il verde non c'era Quindi l'ho preso bianco Perché tra l'altro sta bene pure con questo campello E comunque c'è, è super carino anche bianco Dopodiché Bershka di nuovo Busta enorme Perché Alla fine questi texani li ho presi Perché veramente mi serviva un texano bianco Perché il mio che usavo gli anni passati si è rovinato E per me è uno stivale fondamentale in primavera e estate Cioè si abbina ovunque In più devo dire che ha parecchio tacchetto comodo Quindi slancio un pochino Ho preso questo cargo bianco Che tra l'altro era in saldo Non so perché Super carino E già Oh, l'ho affetto in mente Sbagliato Da Zara ho preso anche questo qui Questo top Carinissimo Questa fantasia mi fa un pazzisto periodo Sempre in Bershka ho preso questo coordinato Super carino Ancora lo devo provare però Non so neanche se mi sta Ultimi due vestiti di Zara Per queste mi sa che dovrei fare un video a parte Mi sa che per queste faccio un video a parte Dimenticavo il vestitino mio preferito E questo lo metterò domenica per andare a pranzo fuori Sempre sta fantasia Ho un outfit in mente Si chiude con il fiocco dietro Giuro che è molto più carino di quello che sembra qui Impazzisco Allora Allora Grazie.